Il ruolo della società, della famiglia, dei social media nei disturbi del comportamento alimentare è stato questo il tema di un evento organizzato dall'Associazione Culturale No Profit Generazioni Consapevoli in collaborazione con l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e con la nascente associazione La Farfalla Lilla, svoltosi lo scorso martedì 10 maggio alle 18.30 in diretta streaming. L'obiettivo, ha dichiarato la vicepresidente di Generazioni Consapevoli, la professoressa Giovanna Cavaleri, che ha rappresentato temporaneamente l'associazione dopo la recentissima autosospensione per questioni personali e professionali del presidente ingegnere Achille Furioso, è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle diverse problematiche connesse ai disturbi di trattamento alimentare, patologia ancora sommersa e poco conosciuta, nonostante costituisca la seconda causa di mortalità giovanile preseduta solo dagli incidenti stradali, destinata ai genitori, agli educazioni, ai docenti, ai professionisti, agli esperti professionisti e adolescenti, l'iniziativa formativa ha centrato l'obiettivo suddetto di affrontare le difficoltà relazionali ed educative di oggi, in vari contesti, a partire dalla famiglia, ma anche nella scuola, nell'associazione e nel sociale, che spesso sono associati a problemi legati a disturbi alimentari. L'evento condotto dall'avvocato Sabrina Tavolacci, nella sua qualità di vicepresidente dell'associazione organizzatrice, ha visto anche la presenza della dottoressa Angela Bruno, psicologa, psicoterapeuta, responsabile del centro metabolite di Agrigento, di Deborah Principato, presidente dell'associazione La Farfalla Lilla, di Fabiola, una ragazza che ha reso una dedica toccante testimonianza, condividendo la propria esperienza, squarciando il velo del silenzio che purtroppo ancora regna in materia. C'è stata anche la partecipazione di Flavia Bugea, una studentessa referente di Giovani G.A.C., e referente della consulta giovanile studentesca di Agrigento. In linea generale ha formato la dottoressa Angela Bruno i segnali di disturbo alimentare, da contestualizzare nelle situazioni particolari, possono essere variazioni significative nelle abitudini alimentari, o in senso restrittivo, o di esagerazioni associate a chiusura relazionale e variabilità di umore. Inoltre, per la dottoressa Bruno, gli interessi dei ragazzi tendono a restringersi e si fa sempre più spazio alla preoccupazione per le forme corporee, per il peso. Quindi la vicepresidente Tavolaccia ha ringraziato il consiglio direttivo di Generazioni Consapevole e i soci tutti per il prezioso supporto offerto ai social manager Picone e Callari, che hanno curato la regia della piattaforma durante l'evento.